Omicidio di Romano sarebbe stato ucciso con un colpo alla testa e uno dei primi esiti dell'esame utoptico sul corpo di Aldo Gualtieri, il quarantenne trovato carbonizzato nei boschi di Possagno. Non sarebbero state dunque le coltellate inferte sul corpo con quell'arma trovata bruciata accanto al cadavere, la causa era del decesso dell'uomo che viveva in via Isonzo a Fellette con la compagna e cugina, madre delle loro due figlie. Lei, lo ricordiamo, Lucia Logatto, 41 anni, e il suo amante Manuel Palazzo, di 27, sono i principali indiziati dell'omicidio di Gualtieri. È ancora da chiarire l'esatta dinamica del dramma, ma intanto i genitori di Aldo Gualtieri, distrutti dal dolore, non escludono di costituirsi parte civile nel procedimento penale contro i due presunti assassini, come dichiara telefonicamente l'avvocato che li sta seguendo, Giuseppe De Blasi. La cosa peggiore che si possa augurare a un uomo è quella di sopravvivere al proprio figlio, no? E il signor Gualtieri in questo momento è una persona distrutta dal dolore e non vede l'ora, è il caso proprio di dirlo, di poter riabbracciare seppur solo il corpo del figlio, ma di poterlo riabbracciare al più presto. Come stanno vivendo il fatto che la possibile autrice sia la compagna e cugina? Guardi, loro sono sgomenti, non riescono a spiegarsi come sia stato possibile una cosa del genere. Si sa quando verrà dato il nulla osta per la sepoltura? No, questo ancora noi non siamo a conoscenza, ma credo che ancora la procura non l'abbia comunicato perché si è inattesa anche dell'esito del testo del DNA che è stato già disposto, quindi ancora non abbiamo notizie. Grazie. Grazie.